Essere ministri, servi per servire e non per servirsi. Durante la messa nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha messo a fuoco due figure diverse di persone chiamate a svolgere un compito. Da una parte Paolo, tutto donato al servizio, mai fermo, dall'altra un servo mosso da scaltrezza per rimanere al suo posto. Anche nella Chiesa ci sono questi, che invece di servire, di pensare agli altri, di mettere fondamenti, si servono della Chiesa. Gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi, e quanti sacerdoti, vescovi, abbiamo visto così. È triste dirlo, no? La radicalità del Vangelo, della chiamata di Gesù Cristo. Servire, essere al servizio di, non fermarsi, andare oltre sempre, dimenticandosi di sé stesso. E' la comodità dello status. Io sono raggiunto uno status e vivo comodamente, senza onestà. Come quei farisei, ai quali parla Gesù, che passeggiavano nelle piazze, facendosi vedere delle altre. Il Pontefice ha invece chiesto a tutti di seguire l'esempio di Gesù, che indica la vera strada. Invece, quando la Chiesa è tepida, chiusa, in sé stessa, anche affarista, tante volte, questo non si può dire che sia una Chiesa che ministri, che si ha il servizio, sino che si serve degli altri. Che il Signore ci dia la grazia che ha dato Paolo, quel punto d'onore, di andare sempre avanti, sempre, rinunciando alle proprie comodità, tante volte, e ci salvi delle tentazioni. di queste tentazioni che nel fondo sono tentazioni di doppia vita. Mi faccio vedere come ministro, cioè come quello che servo, ma nel fondo mi servo degli altri. di doppia vita.